Sono arrivata a pesare 152 kg. C'è stato un incremento di 10-15 kg all'anno. A partire dalla maggiore età me ne sono accorta che effettivamente la situazione mi stava sfuggendo di mano. Avevo dei problemi sia a giocare con i miei nipotini, avevo problemi a camminare, era arrivata al punto che non mi guardavo allo specchio. Trovavo difficoltà anche ad accettarmi. Sfogavo, tra virgolette, il mio nervosismo con il cibo. Non entravo in un negozio perché magari avevo vergogna, avevo paura di un rifiuto, di dire no, questo non ti va, questo non è per te. Mi capitava di avere reflusso gastrico, mal di stomaco, avevo già provato a dimagrire. Sono stata due volte ricoverata perché volevo sottoporme a un intervento chirurgico. Non ce l'ho fatto, la paura è stata più forte. Un giorno mi è uscita una pubblicità su Instagram dove c'era il posizionamento del dottor Persico e dissi voglio provarci. Il programma Lurion è un programma di dimagrimento basato sul posizionamento di questo palloncino intelligente che appunto viene poi gonfiato all'interno dello stomaco senza l'ausilio di nessuna anestesia, senza l'ausilio di nessuna gastroscopia, senza nessun ricovero. Per far sì che questi risultati poi vengano mantenuti nel tempo, il segreto è quello che il paziente modifichi le proprie abitudini alimentari, ma soprattutto lo stile di vita. Il giorno del posizionamento sono andata lì, ero tranquilla, anche perché comunque avevo questi video, è andato tutto bene, abbiamo fatto la radiografia, mi hanno aiutato a far ingerire questa capsula, è andato tutto bene, sono tornata a casa dopo mezz'oretta. Non è stato difficoltoso, anche perché avevo l'acqua, è stato come prendere un normale antibiotico, magari è un po' più grande, però non ho avuto nessun tipo di problema. Primi giorni, subito dopo il trattamento, oltre a qualche crampo, mi ricordo che contattavo spesso il dottore, perché più io riuscivo a mettermi sulla bilancia, vedevo comunque che riuscivo a dimagrire, più ero felice. Quindi vedevo con loro tutto, qualsiasi risultato. Tutto durante i sei mesi, ho andato in clinica a fare la visita con il dottor Schiavo, il nutrizionista, anche con lui mi sono trovata benissimo, sono stata seguita, vengo seguita ancora. Allora, la figura del nutrizionista in realtà serve in tutto un po' il percorso del follow-up in seguito al posizionamento del palloncino all'urion. Quindi viene prescritta una dieta liquida che deve fare per un certo periodo di tempo, poi dopo due, tre settimane comunque comincia tutto il percorso dietetico-nutrizionale che prevede una dieta morbida, una dieta semisolida e una dieta solita e le varie variazioni di svezzamento vengono fatte in base a come il paziente manifesta eventualmente delle sintomatologie. Il supporto digitale mi ha aiutato tanto perché qualsiasi dubbio, qualsiasi incertezza, ho sempre ricevuto tutte le risposte che volevo. Con l'applicazione e con la bilancia mi sono trovata molto bene perché tenevo sempre il peso sotto controllo. Mi è stata molto utile. Pesavo 152 kg e ad oggi peso 78 kg. In tutto ho perso 75 kg. Mi sono posta a un obiettivo. In questo obiettivo voglio arrivare a 70 kg. Sono determinata, sì. Adesso mi alleno tre volte a settimana, vado in palestra, esco con le amiche, faccio le passeggiate a piedi, seguo tutto, diciamo, come all'inizio del percorso. La percezione deve essere cambiata anche negli occhi degli altri. Sicuramente adesso mi vedono più felice, diciamo più felice, sì. Più sorridente, più sicura di me stessa. riesco ad approcciarmi meglio con le persone. Già sto raccomandando all'Urion perché io mi ci sono trovata bene, sono partita determinata e sono arrivata al mio obiettivo. Conosco persone che l'hanno fatto e persone che lo faranno grazie a me perché io sono sempre a pubblicare foto sul gruppo di Medital Medical dove cerco di incoraggiare magari le persone che non credono in questa cosa, però io dico io ce l'ho fatta, quindi perché non provarci anche voi? iscriviti al canale